Il montaggio del dispositivo STA System si effettua in cinque semplici fasi. Fase 1. Connettere il tubo del pedale di controllo all'innesto del pedale di controllo sul frontale del dispositivo STA. Accertarsi di avere fermamente assicurato la connessione. Quindi, connettere il cavo di alimentazione al retro del dispositivo STA. Collegarlo ad una presa elettrica. Accendere l'SDA System mediante l'interruttore on-off posto sul retro del dispositivo. Attendere cinque secondi prima di installare il portatubofiala nel dispositivo STA per consentire al sistema di scaldarsi ed autocalibrarsi. Fase 2. Attivare la modalità Training. Questa opzione fornisce indicazioni vocali durante l'utilizzo del STA System di particolare utilità per i nuovi utenti. Per attivare, premere il tasto Hold to Train. Premere per il Training, per quattro secondi. Si udirà dal dispositivo l'indicazione Training Mode On. Modalità Training attivata. Si può disattivare la modalità Training in qualunque momento, spingendo ancora una volta questo tasto e tenendolo premuto per quattro secondi. Fase 3. Collegare il manipolo STA WAND al STA System. Il manipolo AGO Monouso WAND è disponibile in tutti i formati standard di AGO che si usano abitualmente in campo dentale, come l'ago da 30 gauge e mezzo pollice usato per le iniezioni intraligamentose o PDL, le iniezioni palatali e le infiltrative locali. L'ago da 30 gauge e un pollice è tipicamente usato per le infiltrative buccali sopraperiostali nella mascella. L'ago da 27 gauge e da 1,25 di pollice è disponibile per le iniezioni tronculari al nervo alveolare e mandibolare inferiore. Si può facilmente modificare la lunghezza del gambo del manipolo WAND che si sta usando. Può essere ridotto a diverse lunghezze. Rimuovere il tubicino dal gambo di plastica. Piegare il gambo su e giù diverse volte per spezzare il manipolo alla lunghezza desiderata. Si può così creare un manipolo ultracorto utile in particolare per effettuare iniezioni in zone ad accesso limitato, come l'SDA intraligamentosa o l'iniezione PDL. Fase 4 Inserire una tubofiala di anestetico nel portatubofiala, accertandosi di spingere e ruotare la tubofiala nell'alloggiamento. Così facendo, lo sperone penetrerà più facilmente attraverso il diaframma della tubofiala. Accertarsi che lo sperone sia entrato del tutto nella tubofiala prima di procedere oltre. Fase 5 Inserire il portatubofiala carico nello slot alla sommità del dispositivo. Ruotare il portatubofiala in senso anti-orario di un quarto di giro fino a sentire il blocco. Il dispositivo SDA System provvederà automaticamente ad eliminare l'aria ed emetterà una piccola quantità di soluzione anestetica dalla punta del lago. Inserire il capuccio del lago in uno degli alloggiamenti posti entrabbilati della base del dispositivo. Questo consentirà di tappare l'ago con una mano sola. Collocare il manipolo SDA-WAND nel capuccio. Si è ora pronti ad effettuare l'iniezione. Una volta completata l'iniezione, si dovrà rimuovere la tubofiala usata dalla sommità del dispositivo. Fase 1 Ruotare il portatubofiala di un quarto di giro in senso orario. Il pistone si ritrarrà automaticamente. Attendere la completa ritrazione del pistone prima di rimuovere il portatubofiala dalla sommità del dispositivo. Fase 2 Estrarre il portatubofiala dalla sommità del dispositivo SDA. Fase 3 Estrarre la tubofiala di anestetico dal portatubofiala usando la punta delle dita. Notare le due piccole fessure nella parte alta del portatubofiala. Spingere la tubofiala fuori dall'alloggiamento. Attenzione, non accendere o spegnere il dispositivo SDA se una tubofiala di anestetico è inserita nella sommità del dispositivo, in quanto potrebbe danneggiare il sistema. A questo punto abbiamo completato la revisione del montaggio e delle funzionalità del dispositivo SDA. Il dispositivo SDA dispone di molte altre funzionalità che si possono attivare anche durante l'uso del dispositivo. Per maggiori dettagli, si raccomanda di prendere visione del manuale operativo dove è riportata una lista completa delle funzionalità e dei vantaggi che questa appassionante tecnologia può offrire a dentisti e pazienti.